Ben tornati con i nostri consuadi approfondimenti qui alla medicina regione Lazio dallo studio di live social dove quotidianamente incontriamo figure dal profilo medico scientifico insieme alle quali ci interroghiamo ponendo domande e sviluppandone risposte su temi che affrontano loro nel quotidiano. Oggi parlando del grande tema che concerne la psicologia di questa grande branca medica affronteremo uno dei temi un po' più ostici soprattutto da accettare da parte di eventuali pazienti ma di ognuno di noi che sono come la depressione. Vedremo come riconoscerla quali potrebbero essere gli eventuali segnali soprattutto affrontando anche quello che è stato il periodo e lo è tuttora pandemico e come questa situazione questo specifico periodo storico abbia portato all'avvicinamento magari verso una dinamica del genere da parte di un po' tutti noi. Ma questo è anche altro raccontato ai nostri microfoni dall'ospite al mio fianco oggi do il benvenuto alla dottoressa psicologa psicodiagnosta Marta Cacciotti. Salve dottoressa. Salve. Grazie per averci raggiunto in studio avendo accettato il nostro invito. Ecco partiamo un attimino delineando quello che è la figura dello psicologo psicodiagnosta. Sì, lo psicologo io mi occupo di psicologia clinica per cui appunto mi occupo di patologie anche psichiatriche quindi tutte quelle diagnosi che fanno riferimento alla sofferenza psichica e in termini invece di psicodiagnostica proprio quello di arrivare ad una diagnosi più accurata possibile attraverso la somministrazione di test avendo un profilo molto molto specifico della persona. Bene, ecco come dicevamo in apertura oggi questo studio la vede ai nostri microfoni per spiegare un attimino quello che è il tema da focus ad oggi, l'appuntamento alla depressione. Ecco parliamo di depressione quando e come possiamo riconoscere? Allora, diciamo che per parlare di depressione la cosa importante è sicuramente distinguerla da quelle che sono delle forme come dire di sofferenza, di tristezza che sono considerate normali cioè compatibili con quelli che sono alcuni eventi della vita. Per parlare di depressione abbiamo bisogno che siano presenti alcuni sintomi per un determinato periodo di tempo ovvero la tristezza, la disperazione, la perdita di interesse e di piacere devono essere presenti quasi tutti i giorni per la maggior parte del giorno per un periodo di tempo di almeno due settimane. Ecco questo è un periodo di tempo utile per poter porre diagnosi di episodio depressivo ma soprattutto è un periodo utile per poter chiedere aiuto. Tra i sintomi sicuramente quelli di manifestazione più tipici cioè quelli che compaiono per primi sono spesso i disturbi del sonno e un grandissimo senso di stanchezza che viene definito faticabilità. Questi di solito sono i sintomi con cui si presenta. Poi ovviamente all'interno del quadro depressivo ci sono tantissimi altri sintomi, appunto i disturbi dell'alimentazione, abbiamo delle enormi difficoltà di concentrazione. Quindi insomma quello che possiamo dire è che la depressione colpisce la persona a livello affettivo, a livello cognitivo, a livello comportamentale. Bene, abbiamo delineato quelli che potrebbero essere dei segnali, dei sentori. Ecco, tuttavia abbiamo scoperto tutti come se volessimo, anche per i meno esperti del campo psicologico, volessimo dare un'entità a questo periodo storico pandemico, possiamo delinearlo come triste, cupo, oscuro. Ecco, forse proprio perché un po' tutti noi, mi passi il termine, ci siamo avvicinati un po' ad una depressione per quanto minima, comunque sociale. Certo, allora questo che mi chiedi proprio è anche relativo al perché oggi parliamo di depressione. Parliamo di depressione oggi per due motivi. Uno è che è stata definita la sfida del secolo non a caso, cioè noi abbiamo una prevalenza veramente incredibile, cioè abbiamo una prevalenza nel mondo del 4,4%. Questo significa che al mondo abbiamo 300 milioni di persone con diagnosi di depressione. In Italia questa percentuale è del 5,5%, cioè parliamo di 3 milioni e mezzo di persone che soffrono di depressione. Se guardiamo la popolazione tra i 12 e i 25 anni, questa percentuale è del 10%, significa che noi in Italia abbiamo 800 mila ragazzi con diagnosi di depressione. E parliamo anche di depressione perché? Perché la pandemia ha causato un aumento dell'incidenza di una proporzione incredibile, cioè parliamo del 27% di casi in più. Questo significa che abbiamo avuto 50 milioni di nuove diagnosi al mondo di depressione dopo la pandemia. Questa la dice lunga e il dato è sconcertante. Tra l'altro abbiamo appreso anche in questo periodo storico, forse come non mai nella storia dell'umanità, l'importanza dell'aspetto psicologico, quindi psichico di ognuno di noi. Basti pensare che qui in Italia ci stai in questi giorni interrogando se mettere in atto il famoso bonus psicologo. Questo a mio avviso è un passo in avanti, passando però per quello che è stata ovviamente una forte falla sul tema. Assolutamente. Tra l'altro dobbiamo ricordare che la pandemia ha causato una profonda crisi economica, ma prima di questo la ristrettezza dei rapporti sociali, cioè il fatto di limitare così tanti rapporti sociali, ha causato dei grandi danni sia agli adulti, ma pensiamo ai giovani, la chiusura delle scuole. Insomma, parliamo della crisi scolastica più importante della storia recente. Inoltre la pandemia ha anche causato il fatto che molte persone non si possono sottrarre da ambienti familiari che magari erano percepiti come ostili, di conflitto, addirittura nei casi più estremi anche deprivanti e maltrattanti. Quindi insomma ci sono tantissime cause che la pandemia, se uno la guarda dall'esterno, ma se ci entriamo dentro la pandemia porta con sé anche tutto questo. Vorrei fare un pochino il punto rispetto a quelle che sono le cause, perché è una domanda che molte persone spesso fanno, cioè che cosa causa la depressione. La depressione ha una natura multifattoriale, cioè significa che ci sono tantissimi fattori che possono incidere da quelli genetici a quelli ambientali, al fatto di avere delle patologie organiche e non ultimo anche l'uso di sostanze psicoattive. Ora, al di là dei fattori specifici, la comunità scientifica riconosce che sia la presenza di più fattori, il concatenarsi di alcuni fattori, che può dare esito alla depressione. Perché volevo parlare di questo? Perché questo mi permette di addentrarmi in una tematica molto importante, cioè qualsiasi sia il fattore che innesca la depressione, quello che è il risultato, è un'alterazione a livello neurobiologico, cioè un'alterazione a livello delle cellule cerebrali, ovvero i neuroni. Perché mi permette di entrare in una tematica importante? Perché purtroppo c'è uno stigma, c'è un aspetto proprio di estremo pregiudizio rispetto alla salute mentale. Che cosa vuol dire? Che sembra che da secoli la mente e il corpo siano due entità distinte, come se il corpo funzionasse secondo alcune regole e la mente secondo altre. Facciamo un esempio anche pratico per i nostri ascoltatori, no? Cioè se una persona ha la glicemia alta, soffre di diabete, a questa persona viene detto di rivolgersi al medico, il medico lo invierà ad uno specialista e intraprenderà un percorso terapeutico. Ora molto spesso alla persona che ha la depressione, così come un altro disagio psichico, spesso viene detto di farsi coraggio, di avere forza, come se ci fosse una responsabilità. Perché altro suona un pochettino, dottoressa, anche come, mi passi il termine, c'è un po' di vergogna vera e propria nel accettare di dover chiedere aiuto per il profilo psicologico di ognuno di noi. Ecco, siamo in un'età in cui ad oggi fortunatamente le figure dal profilo psicologico, appunto psicoterapeuti, psicologi e quant'altro sono in forte aumento proprio dagli studi, no? Ecco, tuttavia è paradossale pensare come questi ragazzi che si lavorano in psicologia, una vita devota al percorso di studi in materia, dove sono sempre stati supportati dai genitori, poi quando magari spesso capita che dicano ai stessi genitori, beh vado in terapia, ah perché che sei matto? Ecco, 15 anni di studi non sono serviti a nulla, in questo caso ecco, scendiamo le cose, ecco, il matto non esiste più come termine e soprattutto, e soprattutto ecco, fa parte, lo possiamo dire, qui ai microfoni di Radio Noma Capitale, per quanto concerne poi il nostro appuntamento di oggi, fa parte di ognuno di noi avere degli alti e bassi e siamo una sinusoide in continua, assolutamente, in continuo ondulamento, ecco, in continua oscillazione possiamo dire. Sì, 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 assolutamente, anzi questo aspetto che tocchi appunto è proprio per sottolineare come il meccanismo di base è lo stesso, cioè nel senso la patologia medica e la patologia psichica, cioè la mente e il corpo sono la stessa cosa, cioè sono fatti di cellule semplicemente, soltanto che si imputa una qualche responsabilità, cioè come se uno potesse scegliere se essere depresso o meno, ma io dico sempre ai miei pazienti che sarebbero i primi a scegliere, no, di stare bene se potessero scegliere. Questo è proprio un appello al fatto di chiedere aiuto, perché? Perché questa situazione proprio genera vergogna, quello che tu dicevi. Quindi la persona cosa farà? Tenderà a nascondersi per paura del giudizio, del giudizio della comunità, ma a volte della stessa famiglia, come dicevi tu, e questo cosa comporta? Comporta un dramma immenso, cioè il fatto che queste persone non arrivino ad avere una diagnosi o se ci arrivano, arrivano con una diagnosi tardiva, che come tutte le patologie, chiaramente poi ha un'influenza sul decorso, per cui quello di oggi vuole essere anche un invito a chiedere aiuto, proprio perché anche quando a stare male sono i bambini e gli adolescenti, il nostro appello si rivolge ai genitori, cioè a volte per via di questo pregiudizio, ma anche a volte per la difficoltà di poter accettare che il proprio figlio possa avere una difficoltà di natura psichica, si tende a sottovalutare o a non portare all'attenzione clinica. Cioè prima arriviamo, come tutte le patologie, perché la salute mentale è uguale alle altre... Eh già, va mantenuta, me lo conferma. Assolutamente. Manutenzionata quasi. Cioè è meglio tornare da una visita, no? Dove uno ha detto, dice guarda hai fatto bene a venire, però guarda non c'è niente di preoccupante e la persona può andare a casa tranquilla, perché più si arriva tardi, più delle forme si strutturano, e parlando di bambini e adolescenti questo è un dato importante. Detto questo, se sei d'accordo, vorrei fare un po' l'accenno a chi ci si deve rivolgere. Eh già, eh già, eh già. Che cosa bisogna fare? Intanto una cosa molto semplice, andare dal proprio medico di medicina generale, quindi il medico di famiglia in poche parole, perché è lui che vi indirizzerà presso il distretto sanitario di appartenenza, dove ci sono i centri di salute mentale o la neuropsichiatria infantile. Un'altra cosa che può essere importante da fare è quella di poter consultare l'albo degli psicologi, nel nostro caso della regione Lazio, ma anche delle altre regioni, perché l'albo è pubblico, quindi la persona può trovare lo specialista magari o più vicino alle proprie necessità o anche in termini logistici più accessibile. Che dire, io dottoressa la ringrazio veramente per l'esaustività delle parole che ha, dei temi soprattutto che ci ha proposto e della cordialità con cui li ha trattati. Invitandola a tornarci a trovare per continuare a dare seguito a quello che è stato iniziato oggi tra noi due qui insomma con il tema. Se mi dà l'ok prima di salutarla ridarei tutti i suoi contatti a chi ci segue. Assolutamente. Ricordandovi con noi, qui alla Medicina Regione Lazio, la dottoressa psicologa psico-diagnosta Marta Cacciotti riceve in corso Filippo Turati 44 a Colleferro, lì il suo studio, contattabile al 327 24 05 337 per presa appuntamento. Dottoressa Marta Cacciotti trattino psicologa clinica psico-diagnosta su Facebook marta.cacciotti87 gmail.com la mail di contatto. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito con questo appuntamento alla Medicina Regione Lazio. Per oggi è tutto, al prossimo. Grazie ancora. Grazie. Grazie.